La Pistoiese esce sconfitta dallo stadio Acquaviva di San Marino, la Victor San Marino batte la Pistoiese per 2 a 1. In realtà una sconfitta immeritata per gli arancioni perché sono usciti a testa alta dopo i 97 minuti di gioco contro la seconda della classe. Una Pistoiese che è andata in svantaggio nel primo tempo, poi nella ripresa ha saputo trovare subito il pareggio. Poi c'è stato l'episodio di un calcio di rigore a favore della Victor che di fatto ha chiuso i giochi. Un primo tempo privo di emozioni, i ritmi sono lenti, le due squadre si studiano, nessuna domina sull'altra e non si vede un grosso divario tra la seconda della classe San Marino e gli arancioni. E nel momento meno vivace della sfida i padroni di casa trovano il vantaggio con la rete di Arlotti. Servito da un cross di Lazzari punisce con il suo rasoterra. Prova a rispondere la Pistoiese al trentesimo, ma non succede nient'altro di particolare in campo. Il San Marino non preme sull'acceleratore e la Pistoiese non è incisiva e decisa nel provare a pareggiare i conti. Si va negli spogliatoi con il risultato di 1-0 per la Victor. Stessi uomini in campo all'inizio del secondo tempo dall'una e dall'altra parte. Pistoiese con un piglio diverso, più propositivo, con fiaschi che chiama in causa Pazzini pronto a respingere il suo tiro. Il primo cambio poi nelle file arancioni. Esce Trezza dentro Ielo. Una Pistoiese in crescita che trova il meritato pareggio al 59esimo. Cross di Fiaschi e dal limite di Ht. Trafigge Pazzini 1-1. I minuti scorrono, continuano i cambi da una parte e dall'altra. Alla 76esimo l'arbitro concede un calcio di rigore per il San Marino. Greco commette fallo su Carlini. Dal dischetto Sabba non sbaglia e riporta in vantaggio il San Marino. Nel frattempo la Pistoiese rimane anche in 10 per il Rosso rifilato a Greco per proteste in occasione del penalty. E ora tutto in salita, tutto si fa più difficile. Sette minuti di recupero. Tosi fallisce l'occasione per chiudere definitivamente i giochi. Ma di fatto la gara termina così con il San Marino che conquista l'intera posa in palio. Esce invece senza alcun punto la Pistoiese. È la terza sconfitta consecutiva di questa nuova Pistoiese, di questo nuovo corso. con una classifica che adesso si fa sempre più preoccupante.